Foschi, ultime tornate di campagne elettorali, su quali temi si gioca la sua candidatura? Indubbiamente sulla questione della sanità, della sicurezza e sull'abolizione della legge Fornero che sono i temi che più ho sentito insieme alla necessità del lavoro in questo mese di campagna elettorale provenire dai cittadini di questo territorio. Sanità, difesa della sanità pubblica contro il progetto di smantellarla e di privatizzarla. La sicurezza, perché i cittadini oggi non si sentono sicuri, non sono nemmeno in grado di potersi difendere da soli laddove lo Stato non riesce ad assicurarli. Credo che l'immigrazione debba essere fermata e il centrodestra è l'unica coalizione che si schiera fortemente in questo senso perché nel 5 Stelle, men che meno il PD, sono chiari su questo aspetto. La legge Fornero, pensare che i cittadini italiani debbano lavorare oltre 41 anni prima di andare in pensione è assolutamente impensabile. Quando ci sono stranieri che con congiungimento familiare vengono in Italia e stando anche pochissimo in Italia, ma facendo qua i 65 e i 70 anni che danno diritto alla pensione percepiscono la pensione senza aver versato un contributo. Questi sono i temi importanti per questo territorio, un territorio che io conosco benissimo, in cui vivo per cui già mi sono spesa molto e chi mi guarda lo sa, ottenendo grandissimi risultati a difesa di questa vallata, di questa città, dell'intero territorio.